L'iniziativa si svolge a Manto, ma in realtà coinvolge una quarantina di associazioni di volontariato della provincia. Il programma è molto ricco da attrazione, dalla banda, alla consegna dei prodotti realizzati dalle stesse associazioni. La finalità è sempre quella di fare del bene. Quindi si raccolgono dei fondi per sostenere il materiale didattico che poi verrà distribuito nelle scuole. Una manifestazione che è divenuta una vera e propria tradizione a cui veramente in Manto Maria mai si sono affezionati. Molto e anche noi teniamo molto questa manifestazione. Ormai è l'ottava edizione e quello che mi piace pensare è che non sia un traguardo raggiunto, ma all'inizio di una prospettiva di sviluppo e di maggiore coinvolgimento anche di altre associazioni.